Nell'epoca della globalizzazione e della spersonalizzazione dei rapporti umani e commerciali c'è chi va in controtendenza affermando il valore di concetti come vicinanza e prossimità e la filosofia alla base dell'apertura di un nuovo punto Enel in via Umberto al centro della città dove è stato inaugurato il negozio partner Elettroluce. Il punto Enel nasce per creare un punto di riferimento destinato alla popolazione locale trasformando un negozio che partner tra Elettroluce SRL ed Enel in un punto di accoglienza, di assistenza, di sicurezza e qualità in un mercato ormai diventato globale dove il nostro obiettivo è quello di far ritornare il singolo con le sue esigenze e con i suoi desideri al centro della nostra attenzione. La presenza fisica di operatori allo sportello è particolarmente utile per il pubblico più tradizionalmente abituato a chiedere personalmente informazioni piuttosto che cercarle su altri canali come internet. All'interno della nostra offerta i nostri interlocutori potranno trovare soluzioni al risparmio luce e gas per abitazioni ed attività potranno trovare la possibilità di assicurare il proprio impianto luce gas oltre che soluzioni impiantistiche che spazzano dal fotovoltaico al solare termico dal condizionatore alle caldaie ad alta efficienza tutto al fine di risparmiare i consumi energetici in termini di luce gas e carburante. La partnership tra il Colosso Elettrico e l'azienda Molisana che ha inaugurato il negozio è ormai consolidata e risale ai primi anni 80. Elettroluce SRL con l'apertura di questo nuovo negozio vuole proprio rinnovare la sua storica collaborazione in quanto azienda di famiglia esistente dal 1981, collaborazione con Enel, la più grande società fornitrice di energia elettrica attualmente esistente in Italia, chiaramente con lo scopo di scegliere Campobasso e i suoi abitanti come punto di riferimento.